Pronti, prontissimi, ciao c'è Marco qui ma soprattutto abbiamo la Be Active Cycling del gruppo dei biciclini, Marco è titolare della palestra di Rago Santo che ci porta a fare un giro qui, Bentolino, Torniamo qui, Tragilio, Grazie, ottimo, bene Eccoci qui a stazione Foce, questo è il punto di partenza, le giri in barca nelle valli di ricostruzione delle case degli Etruschi, eccoci qua nel parcheggio di stazione Foce qui c'è la biglietteria e il ristorante Bettolino di Foce, quindi se venite in auto su google map ristorante Bettolino di Foce e in cinque minuti si arriva direttamente qui e questa è chiusa, meravigliosa, adesso facciamo una bella curvetta a 90 gradi ecco cosa abbiamo alle spalle, ciao 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 Siamo tornati a Comacchio passando dal Rio degli Scacchi dove Marco ha la sua base estiva al bagno capriccio. Bene, arrivati alla fine del nostro giro, quindi contattatemi, il nostro sito è albonticello.it, potete vedere gli itinerari, potrete vedere anche questo piccolo video sulla nostra pagina Facebook. A presto, ciao a tutti!